Per tutti resta la grande paura per aver visto la morte in faccia, ma per fortuna non c'è nessun ferito tra i passeggeri, in gran parte i bitontini, che viaggiavano sul pullman andato in fiamme sull'A14. E' successo tutto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il mezzo, partito da Verona, con a bordo anche una comitiva di 28 persone, di ritorno dalla visita ai mercatini di Natale nel nord Italia, ha preso fuoco in galleria a pochi chilometri da Pesaro. Pronta la reazione dell'autista, che ha subito messo in salvo i passeggeri facendoli scendere dal pullman. Dopo pochi minuti, come vediamo nel video pubblicato sul resto del Carlino e nelle foto del Corriere Adriatico, una densa nube di fumo ha invaso la galleria, bloccando il traffico. Sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco e alcune ambulanze del 118. La circolazione in direzione sud è stata bloccata per favorire l'intervento dei mezzi di soccorso e si sono create code fino a 9 chilometri. Nonostante la criticità della situazione, tutti i passeggeri sono usciti indenni dall'incendio e nessuno è rimasto intossicato dal fumo. Perduti invece i bagagli e gli effetti personali, compresi i telefonini cellulari. Un problema che ha creato qualche difficoltà, soprattutto i parenti in ansia, preoccupati dalle condizioni dei loro cari e impossibilitati a mettersi in contatto con loro. Dopo qualche ora il gruppo è stato raggiunto da un altro pullman che le ha caricati a bordo, riportando tutti a casa sani e salvi. Indagini sono in corso per accertare le cause che hanno dato origine alle fiamme.